Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca and I'm excited to announce season 4 of my podcast Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Card to your friends and family this holiday season. Dopo un disco sulla Divina Commedia che non tratta minimamente il tema, torna il buon Tedua con uno spoiler che pare tratti la solitudine con Campione di Laura Pausini. e questa volta il tema è centrato a pieno e mi fa molto piacere perché già dallo spoiler si capisce la qualità comunque di questo ragazzo nel trattare il tema. C'è anche un discorso metrico che io ho sempre apprezzato di lui che comunque gioca metricamente proprio come per me si fa rap, ma a livello melodico riesce ad essere sempre modernissimo e tratta in questa canzone quegli aspetti dolorosi, una solitudine dolorosa che poi magari si può portare benefici, può non portarli, anche se nel testo c'è proprio una parte esplicita in cui dice non ti salverà appunto la solitudine, quindi magari fa riferimento a quella chiusura, quella zona di comfort dove il dolore fa quasi bene ed è già da poco si capisce che è un Tedua che comunque fa i conti, che si rivolge ad un'altra persona ed è bello perché è specchio di sé. La cosa bella di artisti comunque sinceri come Tedua è che poi riescono non solo a mettersi nei panni degli altri ma raccontano molto più di sé quando parlano degli altri che quando parlano di loro stessi appunto perché poi c'è tutto il discorso dell'ego, un Tedua che anche dalle interviste varie ha dimostrato che comunque è in una fase di grande maturità e crescita personale, quindi sa bene cosa vuol dire la solitudine in questo momento perché sicuramente l'ha percepita addosso ed è molto più difficile percepirla appunto la solitudine quando si è famosi, popolari, quando ci sono delle aspettative attorno, quando si ha un team di lavoro, non è facile in verità perché hai sempre una scappatoia se la vuoi e quindi devi forzarti alla solitudine e quindi questa traccia credo che sia proprio una grande esigenza da parte sua, già dopo un disco così che è stato come un parto, annunciato anni fa, poi è arrivato, ha fatto delle scelte anche discutibili, magari hanno premiato a livello di mercato, di classifica e ok però comunque le pressioni sono state tante e adesso invece questo ragazzo un attimo si è scrollato di dosso questo senso addosso di pesantezza, si sta godendo il momento e ci può raccontare magari un singolo dietro l'altro il suo nuovo cammino, questo, e tra parentesi il campione chissà se verrà rilasciato, quindi se questa canzone sarà mai ufficiale ma onestamente credo di sì, e ce ne servono di canzoni così, non so se avete capito che siamo in una fase del mercato in cui si richiede il richiamo di alcune hit, c'è proprio un'esigenza, una forma di nostalgia, i remix all'ordine del giorno, non si riesce a far uscire più una canzone che duri nel tempo e quindi si cerca una canzone che è già sopravvissuta al tempo, tra l'altro la solitudine fa in mente la pubblicità di Spotify dell'anno scorso con Tony che te la cantava sul muso, vabbè, comunque, e quindi chissà anche a livello di mercato questa piccola riflessione la lascio a voi perché c'è stato già un momento così, l'estate del covid, diciamo, c'è stato un momento in cui si giocava molto su questo, quindi questo secondo me vuol dire o che veramente il mercato musicale ha il tracollo e si farà sempre più fatica oppure che si sta aprendo una nuova fetta, un nuovo trend che sarà molto forte per il prossimo anno, io ci spero sempre. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia, gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione e dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre.